Quello alto è Simone, quello piccolo è Bob. Alto, piccolo. Piccolo. Piccolo di altezza, di statura. Questa è una dieta, non si vede? No. Beh, se sei già a luglio, voglio dire, per la prova costume sei un po' in ritardo, secondo me. Ma che cosa è che io provo a costume? Ma io non mi sposto. Dove vai in vacanza quest'estate? Non vai neanche? Lavori? Meno male che ci sono gli staccanovisti come te, che pagano le tasse. A Madeira, un'isoletta. È portoghese l'isola, però praticamente è in Africa. Non so, tendenzialmente vedo che va di moda. Lui le donne le porta sulle isole, così non possono scappare, perché sennò dopo 5 minuti che sono lì con lui, vanno. Invece lui le tiene. Ci vado perché c'è un sacco di trekking, ho visto che ci sono delle montagne, delle rocce, delle... Va bene, ok. Ma la gente che cazzo gliene frega di quello che gli dicevano noi. E si è messo in male così. L'altra volta è VHS, oggi viaggio a Madeira, ma chi è il soldo? Voglio vedere le moto. Le moto, ci sono anche le moto. Partire da quella là. La scuola è già là, almeno non fargli fare dei chilometri a... Ma fino in fondo. Che poi mi perde del peso e si innervosisce. No, partiamo dalle 500, io volevo partire dalle 500, mi avevo messo 4. Questa guarda, scusami, mi passa. Scusami. Va bene. È un 500. Va bene. È giusto. Va bene, scusa, no, è un 500, vedi? Rispettami il valico 500 di produzione cinese. Che marca è? È Vos. Ah, Vos. Sono i marchi emergenti. Ah, Vos. Sì. Pensa a te, 4.750 euro, ti compi un bel 500, già tutto allestito, con tris di valigie, nota bene. Valigie tipo quelle, no? Di quelle moto portanti. Cioè, mica boba o micio micio. Finiture, direi, al top. Guarda che meraviglia. Pasqua. E fa far strada. Ma guardate che roba. Sai che sei veramente... Ma guarda come sono finite bene. Guarda che bello il quadro strumenti. Guarda che bello la presa di corrente. Guarda che meraviglia i pannelli, come combaciano bene, come sono ben costruite. Guarda la cucitura, l'impuntura rossa sulla sella. Io non capisco se ci prendi in giro o se sei serio. Ah, sei serio. Sono fatte bene, sono fatte bene, perché loro adesso devono emergere in Europa, no? Si devono far conoscere. Stanno facendo dei produttivi fatti bene. Mi ricorda vagamente quella Honda lì, eh, guardandola davanti, o anche l'NC. Però, vagamente proprio. Più che l'estetica della moto, che ricorda tanto quella moto lì, è proprio il motore. Nel senso che se tu fai un primo piano al motore... Eh, vabbè, ma dai, fa posto. Scusami. Guarda, fai un primo piano al motore. E poi dopo vieni a vedere questo qui, che è il CB500X della Honda, ti rendi conto che effettivamente sembrano quasi gemelli, insomma. Somigliano parecchi. Comunque, tu se vuoi la Vorge nuova 2022 Euro 5 con 5.000 chilometri, il tris di valigie, il paracarene, i fari a led e tutto, spendi 4.750 euro. Vuoi la CB500X del 2015, spendi 4.750 euro. Quindi, insomma, vuoi la marca? Beh, vuoi la marca? Non so la marca, voglio anche la qualità Honda. E tu dici che non c'è una... Ma non lo so, non lo so, però ti dico, è sempre la nostra questione. È chiaro, il mondo cambia. Ti avrei dubbi, prenderei la Honda, però... Anch'io prenderei la Honda, dall'altra parte, se uno vuole risparmiare, ci sono anche i marchi emergenti per cui si risparmia. CB500X del 2015, con 23.000 chilometri, va bene anche per i neopatentati questa, perché la potenza del motore è 48 cavalli, quindi si guida anche con patente A2, bauletto incluso nel prezzo, un bel 47 litri della Givi, direi seminuovo, è un bello scarichino di quelli furbi, ancora di quelli belli sonori, questi qua sono divertenti, esatto, e di vero è la moto tenuta benissimo, ben gommata, quindi mi sembra un ottimo affare. Se invece avete la patente A2 e volete un mezzo un po' più moderno, no? C'è la voce valica. Stai spingendo 2.22 con tutti gli accessori. Stavo facendo notare le differenze, e io sono qua per questo, è il mio lavoro e io devo spiegare questo qua. Se volete invece risparmiare, allora c'è la CBF600S, questa per i neopatentati non va bene perché di cavalleria ne ha un po' di più, superiamo i 70 cavalli, però sono quei bei motori 4 cilindri che sono ultimamente il piatto un po' piange, e a me dispiace, perché a me il 4 cilindri Honda è un motore che piace tanto. Questo oltre ad essere un 4 cilindri c'è ancora anche 4 carburatori, perché ha ancora un motore a carburatori, e siccome può ancora circolare per un bel po' di tempo, sabato e domenica non ci sono assolutamente limitazioni, secondo me se vogliamo toglierci qualche sfizzetto, farci qualche bel viaggetto nel weekend, anche magari con qualche curvetta in qualche stradina di montagna divertente, è una bella moto. 2.700 euro. 2.700 euro. Veniamo ad altre crossover semi-enduro moto no ibride di questo tipo, abbiamo la F700 GS della BMW, questo è un 2013 con solamente 30.000 chilometri, parabrezza regolabile al flow, ha il bellissimo bauletto, quello della BMW estensibile. Costerà solo lui un 4-5 mila euro. Tanto il bauletto è nuovo perché l'ha messo proprio l'ultimo proprietario, quindi il bauletto è seminuovo si può dire quasi mai usato, moto tenuta molto bene, tra l'altro con delle belle finiture di pellicola effetto carbonio che la rendono un pochettino più sfiziosa rispetto alla colorità. Sembra quasi cubicatura, sembra quasi cubicato. E invece no, è pellicola. È pellicola. Devo farmi i cavoli miei la prossima volta e star zitta. Comunque bella, è fatta bella, è carina. 5.900 euro, più voltura. Ci abbiamo poi il Vistrom 650, più o meno stessa categoria, la Vistrom è un po' più stradalina. C'è un bel telaiettino la Vistrom ancora di quelli in alluminio, quelli di una volta. Attacchi per valigie laterali e bauletto posteriore originale in tinta con schienalino. Questa nuova moto, forse l'ho già detto, io sono vecchio rimbambito e ripetitivo. non mi piaceva, adesso mi piace. Però è una moto intelligente. È una moto molto robusta, è molto bella da guidare, ha un avantreno molto leggero, sembra quasi una Honda. È una bella moto. Anche Lux usa una moto del 2009, però non sente il tempo. No, assolutamente. Ma anche perché poi la tendenza è andata un po' su questa tipologia. E guardate questa come assomiglia alla Voge. Guardate come assomiglia alla Voge. Bella, è bravo. Ha il musetto che assomiglia. Non è carino che abbiano fatto la Voge, hanno replicato la Voge. Ragazzi, loro devono fare presto. Anche i giapponesi negli anni 50, anni 60, anche i giapponesi si sono ispirati alle moto europee. Stavo scherzando. È una cosa normale, si guardano quelli più bravi. No, per il momento i più bravi siamo ancora noi. No, ma io avevo ribaltato, non hai capito? No, non ho capito. Guarda come hanno imitato la Voge. Ah, la Honda ha imitato la Voge. Dai, guarda. Scusate, questa finezza mi era sfuggita. C'è lo scarico Aro? Lo faccio vedere subito. Sì, dai, farlo vedere. Perché ti metti più fai girare Pascal di qua e di là. Scarico Aro, ma anche bauletto posteriore di 47, attacchi per valigie laterali. Ricordiamo che questo è un modello DCT, quindi con il cambietto sequenziale a doppia frizione. È la NC750X. È la NC750X. Vano, porta casco, incluso nella carrozzeria. Gli ha messo anche un bellissimo portatelefono con tanto di caricabatteria per induzione, quello senza filo, tecnologico. È una motoretta così che consuma pochissimo. È versatilissima, va bene tutti i giorni per andare a lavorare. Va bene anche per farci del turismo tranquillamente anche in coppia. Potete mettere le tre valigie, più il vano porta casco avete una grandissima capacità di carico. solamente 6.200 euro, solamente 17.000 chilometri e questo è un euro 4. È un contoesposizione, quindi non posso fare permute, non posso ritirare l'usato. Però il prezzo è molto buono e la moto è molto ben tenuta. Scusate, però se l'usato vi interessa potete valutarlo o no? Diciamo che no, senza altro contoesposizione per contoesposizione lo posso fare. Se poi è una moto di particolare interesse, si può anche valutare in estremi. Veniamo alle moto un po' più sfizioselle, quindi quelle un po' più da milanesi, in bruttino. C'era su questo milanese o? La Arley, questo è uno Sportster 1200, bello, non ha tanti chilometri, c'è 25.000 chilometri, forse leggermente qualcosa in più. Vedo uno scarico Bombardaus. È una moto del 2011, sì, c'è su anche gli ammortizzatori posteriori, se non mi ricordo male, infatti Bitubo. Bella, niente da dire, è una moto tenuta molto bene. Poi la Sportster è tanto equilibrata, secondo me è lo step giusto per entrare nel mondo Arley. Poi sappiamo che ultimamente su questi modelli ci sono un po' di problemini e tutto, quindi comprarsi un buon usato che sicuramente poi ti tiene anche il valore nel tempo, non guasta. Ok. E questa è una moto che proponiamo 8.900 euro, e poi insomma ne parliamo, qui valutiamo anche la permuta, quindi venite a trovarsi serenamente. Anche se avete usato i particolari li valutiamo. Questa è un'alto contoesposizione, la 90 del 2021 praticamente mai utilizzata, solamente 2.600 chilometri, che dire, è una livrea particolare, la 719, quindi vedete che ha queste grafiche molto particolari con effetto alluminio, telaio rosso, insomma, bisaccia laterale, ma c'è anche il suo codino monoposto, quello bello, in forma di suppostina. Bella. La colorazione è molto simpatica, a me piace. Non l'ho mai capita molto questa moto, per cui ti ascolto, ma rimango sulle mie, esatto. Scrambler Triumph. Anche questa. La Scrambler, eh, abbiamo abbassato il prezzo. Adesso ha un prezzo molto interessante, sempre moto nuovissima, 3.490 chilometri, 2021, già Euro 5, 11.900 euro, adesso diventa veramente interessante. Ricordiamo che è una moto dalle finiture eccezionali, forse lo in alluminio che è una scultura, materiali veramente di eccellenza, sono moto che sono fatte bene, non c'è niente da fare. Il 1.2 ha un bel tiro, una gran bella coppia. La Triumph lavora bene, mi sembra che faccia veramente dei bei prodotti. Poi può piacere, può non piacere, del genere, lo stile, quello che vuoi, però a livello di finiture la trovo veramente molto bella. DNA 01 lo fai vedere perché questo è un conto vendita... Sì, la moto del Nildo, l'abbiamo vista anche in trasmissione, che dire, è una moto con 10.000 chilometri, bisogna essere appassionati del genere, comunque bisogna avere un interesse per questo speciale, particolare veicolo, che ha appunto la caratteristica unica di avere questo cambio a variazione continua, questo HFT di Honda, che in ambito due ruote è l'unica moto ad aver mai montato, quindi insomma è un po' come comprarsi l'orologio particolare, col movimento diverso da tutti gli altri. Quindi sicuramente è una moto che un domani può avere un interesse collezionistico. La si può anche usare, non c'è niente di male. E' anche molto bella, ci sono venuto a Saranno l'altra volta e devo dire che mi sono veramente gustato il viaggio. Anche all'andata che c'era tanto traffico, c'era la barriera con i lavori, c'era chiuso lo svicolo, quindi mi sono dovuto destreggiare in mezzo ai camion, alle macchine e tutto, con questa trasmissione che è veramente un velluto, perché non senti il cambio marcia, diversamente dal DCT, la frizione è bella progressiva e tutto, quindi la guidi come fosse uno scooter, ma con un funzionamento ancora più preciso, ancora più dolce di quello che può essere. E poi ha questo look unico, eh Simo, perché è veramente un oggetto... Look può piacere o non piacere, comunque niente da dire sulla qualità costruttiva e sull'idea di fare una moto completamente diversa da tutte le altre. Va bene, ci spostiamo di là perché ci sono delle moto anche in là. Aspetta, facciamo vedere prima il K che è rimasto dietro la colonna, nascosto, imboscato, il Duke 690R, insomma moto da divertimento, da sparo, sospensioni White Power, scarico a Krapovic, che dire, moto del 2013, 17.000 km, poco più di 5.000 euro la richiesta, se abbiamo bisogno di un cavallino indomabile da portare sulle stradine di montagna per fare un po' i cretinetti, questa qua è l'ideale. Io non mi immagino te in sella a una roba del genere. Ma io non ci vado, quindi. E per fortuna, perché sai che io ti isgrido. Io sono fedele al mio VFR e lo guido con grande dolcezza e con grande tranquillità. E con grande tranquillità. Rischi a rifare dei danni. Mi fai vedere quel terzetto lì di nera prima delle usate, queste tre... Ah, vuoi vedere le nostre motorette particolari. Sì, perché questa qua è una più bella dell'altra. Questo qua è il nostro scramblerino nuovo, il CL500, adatto anche per patente a due, veramente molto stiziosetto. È imparentato con la Rebel 500, che è quella un po' più bobber, un po' più custom. Questa qui ha una seduta un pochettino più alta e ha questo stile classico scrambler, molto molto piacevole. Direi che l'hanno realizzata veramente con delle belle finiture e il prezzo è molto concorrenziale, perché con 7193 lo vi portate a casa, veramente una bella macchinetta a tutto fare, molto piacevole anche alla vista. A me piace tanto questa. E queste qui, ragazzi, queste qui hanno il motore dell'Africa Twin 1100 con il cambio DCT, sono delle moto eccezionali. Queste sono veramente... Io a tutti i clienti che hanno comprato la Rebel 1100 ho avuto dei feedback solamente iperpositivi, perché ha una grande guidabilità, è fin maneggevole e ha un motore che dà delle grandissime soddisfazioni. Baricentro bassissimo, facilissima da guidare, bella frenata, bella accelerazione, è bella anche per viaggiare, adesso hanno fatto anche il modello T con le valigie, è un profilo aerodinamico anteriore, molto americano, è bella. Molto riuscita, bella. Veniamo all'Africa Twin, questa è un conto vendita del 2022, quindi già il modello Euro 5 aggiornato e tutto, ha percorso solamente 465.000... 465.000, ma non ne ha fatti tanti. No, volevo dire 465.000, ma ormai non ti crediamo. Ne erano talmente pochi che non riuscivo a dirlo e quindi ci ho dovuto aggiungere. 465.000 vuol dire che l'ha usata giorno e notte? Ne ha 465, non ha fatto neanche il primo italiano. Garanzia Honda fino a novembre del 2028, perché abbiamo sei anni di garanzia, 17.400. Ricordiamo che questa moto nuova, col cambio di ct, costa 20.090.000, c'è però una promozione interessante nel mese in corso, ricordiamolo, è luglio 2023, quindi non mi telefonate. Tanto ad agosto sei chiuso. Farà un anno. Sì, ma la promozione ce l'ho fino alla fine del mese di luglio e potrebbero anche provocarla poi a settembre, però è una promozione idonea, diciamo, per chi sta cercando la moto magari per andarci in ferie. L'Africa Twin col tris di valigie. inclusa nel prezzo e ho un finanziamento senza interessi in 5 anni, 24 mesi a rata piccolina, più 36 con la rata un po' più altina, quindi una rata differenziata, senza maxirata, senza un finanziamento classico proprio, una rata differenziata a 24-36 senza interessi. Potete finanziare fino a 15.000 euro, quindi vi portate a casa l'Africa Twin di ct o manuale, poi quelle che abbiamo perché ovviamente è un'offerta sul fine stock. Tris di borse originali Honda, sono belle grandi, 58 litri da centrale, 30 e 40 le laterali e 15.000 euro senza interessi. L'anticipo può essere la moto usata? L'anticipo può essere la moto usata, sennò sono circa 5.000 euro di anticipo, però vi portate a casa la nostra ammiraglia con un finanziamento veramente molto comodo, oltretutto il finanziamento è sempre estinguibile, quindi magari la volete tenere un anno, due anni, tre anni, poi la potete vendere, tiene sempre il valore altissimo nel tempo, estinguete il vostro finanziamento e avete praticamente pagato un noleggio. Bene, ottimo. Puoi far vedere anche il cross-runner. Assolutamente no, ma lo farei vedere. Ma non lo vogliamo vendere, però visto che è qua, facciamolo vedere, solamente vederlo questo qui, non lo potete comprare, lo potete solo guardare. Ve lo facciamo vedere, ma sembra così. Modello del 2019, sapete che a me questa moto piace tanto perché è molto imparentata con la mia, il VFR 800, ed erano quegli anni lì quando si vedeva ancora tanto bel alluminio, questi bei forcelloni monobraccio, questi motori a V quattro cilindri col VTEC, questo praticamente nella fattispecie è un VFR con la guida più alta, quindi con una carena in stile un po' crossover e la guida in stile un po' enduristico, in realtà le ruote da 17, assolutamente, quindi è una moto assolutamente stradale con una guida un pochettino più altina. Pregato che il tuo capo Marzio non la voglia vendere, per cui... Beh, io l'ho messa in vendita, quindi... Esatto, se arriva qualcuno con il grano tra i denti ci pensiamo. Diciamo che il prezzo è un po' altino, ecco, è anche un'onda approved selection, quindi a tutte le garanzie ufficiali Honda e tutto, però è una moto anche in tonsa, 9.000 km fatti dal nostro cliente, l'abbiamo venduta noi, l'abbiamo manutenuta noi, l'abbiamo ritirata a noi, insomma, la moto a noi piace molto, se volete condividere questo gusto con solamente un 10.000 euro, ve la potete portare a casa. Bene Simo, grazie mille, come al solito qui da Motostar trovate tutta la gamma, chiaramente le moto nuove, usato, scooter... E Franco, ogni tanto lo trovate anche Franco, purtroppo a volte capita qui, soprattutto quando ho dei rottami in vendita, perché puntualmente appena ricevo un rottami lui mi chiama Massimo, ma io ho visto che hai messo in vendita quella volta, eh, quella... e viene, tante volte le coppa anche... Sei riuscito a vendere anche il Supercab, il Supercab è quello là? Il Supercab? Allora, grazie a vino? Lo dici veramente? Certo che lo dico. Allora, lo dici così? Eh sì, ebbene sì, hanno tradito il marchio Yamaha e si è comprata... Grazie, voleva Supercab e Yamaha non lo fanno. Non lo fanno, lo facciamo noi. A me piace farci affari degli altri, perfetto, va bene. Carino il Supercab, come si fa? Grazie mille. Ciao, grazie a voi, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.